Se la pizza napoletana è diventata patrimonio dell'UNESCO, allora deve diventarlo anche la baguette, la richiesta è arrivata dal presidente francese Emmanuel Macron in persona, la baguette è invidiata in tutto il mondo ha fatto presente il capo dello Stato bisogna preservare l'eccellenza e le capacità dei fornai, per questa ragione bisogna iscriverla nel patrimonio dell'UNESCO. La baguette ha continuato il presidente è parte della vita quotidiana della Francia e è una storia speciale, i nostri panettieri hanno visto che i napoletani sono riusciti a inserire la pizza nel patrimonio mondiale dell'UNESCO, per cui si chiedono, perché no la baguette hanno ragione, ha concluso Macron. La richiesta del presidente fa riferimento al fatto che l'UNESCO abbia riconosciuto l'arte dei pizzaioli napoletani come patrimonio immateriale dell'umanità. Per questo, secondo lui, dovrebbe avvenire la stessa cosa con i panettieri francesi.